oggi salutiamo il ticino gold digger i ragazzi sono di genoa sono venuti a visitarci la nostra punta ecco che abbiamo tirato su la nostra zatterina per andare a prelevare la merdaccia che hanno lasciato questa qui è tutta a vetro resina la prossima iniziamo viaggio nel ticino 25 euro l'ora ma davide che faccia l'arri cagliato è bellissima guarda è anche azzurra dobbiamo solo pitturarla di blu come il ticino mettiamo il ticino col digger finalmente abbiamo la nostra barchetta grazie agli amici di genova che hanno pensato a noi e ho per loro questo è d'altro guardate come lavora bene guardate che spettacolo che spettacolo sono felice come un bambino piccolo ci sono i sassoni è una bella diga abbiamo fatto dai così che si abbassa si alza non c'è nessun problema attenzione vediamo? si vedi cosa serve la cario bike? ma ce l'hai lì usala è la carro ah già è vero voi vi corro dietro cazzo si tira l'acqua e voilà è una piccola spinta è una piccola spinta è una piccola spinta è una piccola spinta cazzo si voilà Siamo arrivati Ciao ragazzi Un bello sbatto per tirare via quella meraccia Cose che si devono fare D'altronde La gente parla e noi facciamo invece Ciao a tutti A domani